Buonasera, saluti, ben trovati, ci fa piacere vedervi qua in tutta la consorte, quindi in assetto familiare, non in assetto ufficiale. Stiamo riscoprendo questo posticino che insomma è quasi una cavea naturale. Mentre arrivavamo ci siamo chiesti chissà come sarà orientata, se ci sarà un bar, mentre invece molto semplicemente senza interdire né il traffico né le passeggiate degli utenti di questo posto spettacolare e meraviglioso. E' un'esperienza che abbiamo già fatto l'anno scorso e che il Movimento del 12 dicembre ci ha riproposto, l'abbiamo ampliato, siamo contenti che abbia successo. E' un modo come fare promozione al nostro territorio in luoghi diversi. Ci ha sempre qualcosa da scoprire. Sicuramente, sicuramente. Si arriva da turisti si va via da oturi. Buonasera. Buonasera.